Entreranno agli atti brogliacci delle intercettazioni tra due giovani di Castiglion Fibocchi indagati per la morte di Martina Rossi, la giovane studentessa imperiese precipitata dal balcone di un albergo a Palma de Mallorca il 3 agosto 2011. Il gruppo del Tribunale di Arezzo per Giorgio Ponticelli ha infatti respinto l'eccezione sulla loro inutilizzabilità avanzata dalla difesa dei due ragazzi, sui quali pesa la pesanta accusa di morte in conseguenza ad un altro reato e la tentata violenza sessuale. Il giudice ha affidato la trascrizione delle intercettazioni a Daniel Bordet, perito trascrittore. L'operazione sarà completata entro l'udienza del 10 luglio. E sempre i legali dei due giovani, l'avvocato Baroni e l'avvocato Buricchi hanno presentato un'altra eccezione. Secondo i difensori, infatti, il fatto che ci sia già stato un giudizio in Spagna escluderebbe l'udienza in Italia. Infine si tornerà in aula il prossimo 8 giugno per la traduzione della rogatoria della cameriera spagnola che avrebbe dichiarato di aver visto Martina gettarsi dal balcone. Ipotesi alla quale non hanno mai creduto i genitori della ragazza, presenti anche oggi in aula.